L'Associazione Percorso Donna da 12 anni opera nel territorio di tutta la provincia di Pesaro Urbino e si occupa di contrasto alla violenza sulle donne. In particolare lo fa mettendo a disposizione le proprie volontarie all'interno del Centro Antiviolenza Parla con noi, con operatrici dell'accoglienza, psicologhe e avvocate. Dal 2021 Percorso Donna è in coprogettazione insieme alla cooperativa Labirinto e all'ambito territoriale sociale 1 nella gestione del Centro Antiviolenza, la cui titolarità fa capo all'ente ambito. Oltre a questo noi ci occupiamo di formazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro e questo attiene alla prevenzione che è fondamentale per combattere il fenomeno della violenza di genere. Infine ci occupiamo di partecipare e organizzare eventi di sensibilizzazione. In questi 12 anni si sono fatti tantissimi passi avanti perché la sensibilizzazione ha fatto sì che la società prendesse consapevolezza e soprattutto le donne e le donne vittime di violenza fossero sempre più consapevoli di quelle che sono le situazioni che vivono e siano sempre maggiormente in grado di riconoscere i segnali della violenza e conoscano i servizi attivi sul territorio in modo tale da poter accedere a questi servizi e chiedere aiuto e sostegno. Fondamentale è stata la rete territoriale che in tutta la provincia opera da tanti anni. Quest'anno si è rinnovato il protocollo operativo di rete che vede coinvolti tantissimi soggetti dalle forze dell'ordine al centro antiviolenza, le case rifugio, la procura, gli ospedali, le istituzioni. Sono tantissimi soggetti che da anni si siedono a questo tavolo e ragionano su procedure da mettere in campo quando una donna accede a uno di questi nodi della rete. Questo è un lavoro importante e fondamentale è la formazione di tutti gli operatori.